L'ASL Avezzano L'Aquila Sulmona, l'Università dell'Aquila, l'Istituto di Fisica Nucleare, l'INAIL e l'AIAS mettono insieme le loro migliori eccellenze in una giornata di analisi e proposte operative che si concluderà con l'intervento del capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, già prefetto dell'Aquila ai tempi del terremoto. Il 23 settembre prossimo, infatti, all'Aquila, l'auditorium della Guardia di Finanza si svolgerà a partire dalle 8.30 un convegno nazionale per il quale è prevista la presenza di circa 400 persone provenienti da varie regioni italiane. Il titolo del convegno sarà Sicurezza integrate nel sistema Italia. Si tratta di una tavola rotonda ad alto livello che cercherà di affinare nuove strategie e modelli per l'adozione di misure speciali contro i diversi tipi di eventi, tra cui il terremoto, tornato purtroppo nelle cronache italiane proprio di recente, in grado di mettere fuori mercato l'intera produttività di un'azienda, oltre che procurare eventi luttuosi a carico dei lavoratori e della popolazione in generale. Blindare l'incolumità dei dipendenti e proteggere i dati sensibili come salute, religione, opinioni personali ed altro, alzando il livello di risposta di ciascuna azienda contro il terremoto, ma anche attacchi informatici, terrorismo ed altro.